Una ragazza, un albero, un albero in fuoco. L'hai visto veramente? Sì. E tu cosa hai fatto? Ho fotografato. Tu dici che non ami nessuno, perché ami le alberi? Non mi ha detto ogni è tutto il te. L'amoglio della è... Non, 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 non. E poi? Ho arrangato tutto questo p***** di cattivo. Ho i miei con gli altri. E poi ho parato di fotografare. Grazie a tutti.